C'è la volontà di recuperare la personalità giuridica, ma occorre del tempo. Non capisco perché si vuol velocizzare un processo che necessita di passaggi tecnici. E Mimmo Carlo Magno, presidente dell'area programma Ragonegrese Pollino, che interviene sul dibattito aperto ieri in città dalla terza commissione consigliare del comune di Lauria. Oggetto della discussione, l'utilità dello strumento territoriale che in Basilicata ha sostituito ormai da tempo le vecchie comunità montane. In realtà i capigruppo dell'Assise, per quanto emerso dal documento stilato e diffuso dal presidente della commissione, Nicola Carlo Magno, sembrano avere le idee proprio chiare. Il comune di Lauria esca dall'area programma, fallimentare ed inutile. Si convochi, spiegano ancora, un consesso urgente per la revoca della delibera di consiglio 107 del 2011, che sanciva l'adesione all'area e ancora si coinvolga in questo processo anche gli altri 25 amministratori. Dunque da Lauria è arrivato il giudizio critico all'ente guidato dal presidente Mimmo Carlo Magno. Presidente che ha ribadito però la sua linea. Si è già pensato da tempo, anche con il neogovernatore regionale Pittella, di rivedere questo percorso. L'esperienza di questi anni ci ha fatto capire che qualcosa non va. Innanzitutto dobbiamo guardare a soggetti che abbiano la forza e l'autonomia di enti intermedi, l'unione dei comuni piuttosto che l'unione montana. Quanto all'utilità direi che ci sono luci ombre da prendere in considerazione. Tra le luci ha spiegato la qualità e l'importanza dei lavori effettuati sulla difesa del suolo. C'è poi l'aspetto delle spese di gestione e funzionamento improntate al risparmio, eliminando spese per missioni e rappresentanza o azzerando stipendi e gettoni agli altri organi. Tutte cifre, prosegue ancora Carlo Magno, che negli anni passati per le comunità montane superavano i circa 200.000 euro. Tra le ombre invece le voci negative, la nuova esperienza pensata in Basilicata, detto Mimmo Carlo Magno, si è scontrata con l'architettura istituzionale e come si sa le novità per attuarsi devono seguire percorsi lenti e faticosi. L'obiettivo, ha infine detto il reggente dell'area programma, è costruire un soggetto autonomo diversamente da quello attuale.